Questa volta il mare ha sofferto più della montagna. La neve caduta sulla costa infatti ha provocato non pochi disagi tra Pesaro Ancona e Civitanova Marche, con enti e cittadinanza che certamente hanno dovuto fare i conti con l'inesperienza. Basta pensare che nella sola Ancona i vigili del fuoco hanno dovuto effettuare oltre 100 interventi e che alcuni comuni hanno addirittura finito il sale utilizzato per contrastare il ghiaccio sulle strade. È proprio sulle strade che si sono verificati maggiori disagi, con il trasporto pesante già bloccato con ordinanza prefettizia, a cui si è aggiunta la chiusura della pista di decollo e atterraggio dell'aeroporto di Falconara. La strada del capoluogo questa mattina ha dovuto soccorrere una mamma che stava portando la sua bambina di soli sei giorni all'ospedale pediatrico Salesi. Per quanto riguarda la provincia di Macerata, già detto dei disagi vissuti a Civitanova Marche, Porto Recanati e Potenza Picena, si sono registrati alcuni incidenti stradali, tutti di piccola entità e senza feriti gravi. Il più significativo questa mattina a Corridonia, con ben sei auto coinvolte. Disagi anche a Macerata, in particolare a ridosso del centro storico, con i vigili del fuoco che sono dovuti intervenire più volte per soccorrere automobilisti in difficoltà. La neve non ha risparmiato chiaramente neanche le aree interne e montane, quelle che ormai da un anno e mezzo fanno i conti con i danni provocati dal sisma. Qui, tuttavia, il piano neve predisposto dai comuni sembra aver funzionato al meglio e non si sono registrati particolari disagi o episodi di cronaca. Da segnalare invece le criticità lamentate da alcuni dei cittadini che alloggiano nelle casette provvisorie, che hanno dovuto fare i conti con tubature congelate e infiltrazioni. Per domani, nelle Marche non sono previste nevicate, ma le temperature saranno molto basse con il rischio di ghiaccio sulla rete viaria e lungo le vie pedonali. Per la nostra regione, quindi, un'altra giornata nella morsa del freddo.